Questo video racconta chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. Cosa facciamo in Gallas Group? Perché lo facciamo? Il nostro obiettivo è aiutare le persone superando sempre le loro aspettative. Vogliamo essere migliori nel nostro campo? Come? Così? Il nostro lavoro ha un grande impatto sulla vita delle persone. La cambio è meglio. Gallas Group mi ha cambiato la vita. Avevo un problema e loro me l'hanno risolto. Sono molti anni che faccio questo lavoro e grazie a Gallas Group che mi ha sempre trovato persone giusti da accudire. Grazie a Gallas e la persona che mi hanno mandato mi sono trovata molto bene e sto bene io e anche mio marito. Questo è quello che facciamo e siamo convinti che sia il modo migliore di farlo. A volte sbagliamo ma impariamo dai nostri errori. Solo così possiamo migliorare. Benvenuti in Gallas Group!